Ma ciao ragazze, benvenute e ben ritrovati nel canale Faccio al volo questo spacchettamento con voi, il brochet Anche se non è completo Questo è il tavolo in cui trovate due ordini Uno piccolo, uno medio Ma di quello medio, che prevedeva due pacchi Bartolini me ne ha portato uno Ma siccome devo cominciare assolutamente a consegnare i prodotti E soprattutto ad incartare Perché molti di questi sono i regali Che i miei clienti devono fare alle persone E quindi devo incartare tutto Magari allegherò un pezzo di video con il restante pacco Purtroppo devo già muovermi E quindi magari mi muoverò così Però comunque quello che mi è arrivato fino ad ora Ve lo volevo troppo mostrare Perché è molto molto carino Allora parto subito con soltanto una parte Perché in questi ordini proprio Mi hanno preso tantissimi bagno doccia Quelli insomma che sono stati rinnovati E mi hanno preso praticamente tutto Allora alle mie clienti sta piacendo tantissimo Argan, Hammam e Rosa Qui ne trovate due Ma ce ne sono altri E altri ancora me ne hanno ordinati Nell'ordine precedente Di cui però non vi ho fatto video E tra l'altro Mi hanno preso molti di questi Abbinati alla crema corpo Che regaleranno come set Tra l'altro sto pensando di farvi un video In cui in pacchetto Faccio i pacchetti in Natale Vediamo Vorrei fare qualcosa di carino Quindi velocemente vi faccio vedere Hanno preso questa Che è una delle mie fragranze preferite Lampone e menta Poi vi ripeto Questa che mi piace un po' tutto Comunque Poi abbiamo Mango e coriandolo Vaniglia Bourbon Questo all'oliva Petit grain Che tra l'altro È una profumazione molto buona Molto unisexy Io vi consiglio se volete Insomma Un bagno schiuma Per voi O da regalare Per la famiglia Che vada bene Anche per i maschietti Questa è top Poi qua abbiamo Alga selvatica e finocchio Che tra l'altro è una delle ultime Arrivate E qua un'altra vaniglia Poi mi hanno ordinato Un po' di questi Che fanno parte Dell'album di Natale Ovvero Il bagno schiuma Cioè in crema Della linea Karite Che è quindi Molto molto Coccolosa Ecco Un crema sotto la doccia Che va benissimo Anche per le pelli Più delicate E sensibili Che lascia la pelle Bella Bella morbida Carinissimo Poi questo packaging Ah C'è anche un cocco Poi mi hanno ordinato Un set Nell'ordine precedente Me l'avevano presi Tipo tre Ma dell'altra fragranza Questo set Bellissimo Che tra l'altro È molto conveniente Io infatti Avevo consigliato Ai miei clienti Perché prendendo Questo set C'è un risparmio Di più di 5 euro Praticamente Un prodotto è gratis Questa bellissima Scatola di latta A forma di luna Con il set Questo qui Celeste E quello Alle mandorle dolci E nello specifico Qui abbiamo Il bagno schiuma Il sapone mani La crema mani E questo che è Il gel doccia Concentrato Poi mi hanno preso Una saponetta Sempre Di questa linea Un'altra saponetta Invece dell'alta fragranza Che è bacche colose Poi mi hanno preso Due creme mani All'argan Che vorranno regalare Insieme al bagno schiuma Quindi devo fare Due pacchetti Poi mi hanno preso Un set Di questa Rich creme La crema Scusate il riflesso Con la crema mani Che Insieme Ha una Una trousse Che però È nell'altro pacchetto Poi mi hanno preso Un po' di shampoo Che era in offerta E qui abbiamo L'antinquinamento Che va bene Per tutti i tipi di capello Questo è fantastico Lava benissimo I capelli Poi abbiamo Un riparazione Un lisci E un volume E densità Poi abbiamo Un balsamo Per ricci E poi Mi hanno presa Mi hanno voluto Prendere questa palette Questo quad Quattro Contiene I due grigi Il perlato E il nero Che ha preso Una persona Che conosco Dopo che ha visto Un reel Che avevo fatto io Su Instagram Le è piaciuta molto La palette E l'ha ordinata Ma adesso Con questo ordine Vabbè Più quello che Che resta Vi faccio vedere I regali Tra i regali C'era Questa bellissima Trousse Con la crema mani Alle bacche Poi Questo Che io Uno Già ce l'ho in uso Veramente Questo magari Non so Lo tengo di scorta O insomma Se mi serve da regalare La crema mani Fantastica Al carité Questo è proprio Per chi ha le mani secche Come me Fenomenale Poi Un campioncino Del fondotinta Penneclat E Un bifasico Il bifasico Per Per occhi Delicati E' fantastico Io adoro Questo prodotto Poi ho voluto Prendere Da regalare Fare i pensierini Diciamo Per le clienti 5 di questi Mini gel Detergenti Questi sono La purement E poi L'azienda Mi ha dato Un po' Di materiale Io però Ho voluto Prendere In aggiunta Anche queste Bellissimissime Buste Sono bellissime Con Il disegno Insomma Del Natale Di quest'anno Ho preso Queste grandi Perché Insomma Ci devo mettere Questi set Di latta Che poi Confezionerò Con La La carta Trasparente Probabilmente Sono veramente Fatte Molto bene Queste buste Mi piacciono Tantissimo Ne ho prese Dieci grandi C'erano anche Piccole E poi Ho preso Un set Di questa Scatola Che contiene Ben 50 buste Queste Le utilizzerò Tantissimo Fatte così Queste Sempre Sono le grandi Ma ovviamente Non sono proprio Grandi Perché le piccole Sono adatte Soltanto A Diciamo Trucco E queste Le utilizzerò Per confezionare Un po' Qua e là Sono fatte Benissimo Anche queste Addirittura Qua hanno già Il biadesivo Pronte per Per essere Chiuse Io vi lascio Il link Di questo Fantastico Catalogo Del Natale Di quest'anno Che contiene Tante Tante Meraviglia Ecco Questa è la linea Alcarité Questa è la linea Alle mandorle dolci Perfumazione Fantastica E l'altra Scusate Il riflesso E quella Alle bacche Golose Vi lascio Il link Perché Se volete Fare dei pensieri Per voi O per gli altri Vi consiglio Di Insomma Di Anticiparvi Perché poi Insomma Rallenteranno Un po' Con i pacchi Inoltre Vi ricordo Che da soli Soli 35 euro Di Di Spesa Avrete Uno sconto E dei regali In omaggio Cosa che Nessuna Azienda Comunque Fa con una Spesa Di Soltanto 35 euro Quindi Vi conviene Assolutamente Quindi Avrete Lo sconticino Più Regali Per voi O comunque Da regalare Io scappo Perché Il bimbo Reclama Vuole la mia Presenza Qui vicino a me Vi mando Un bacio Spero Vi sia Di piaciuto Lo spacchettamento I brochet Un bacione A presto Ciao Ciao